Un minuto di silenzio in tutto il paese per ricordare le vite falciate dal camion che venerdì si è lanciato sulla folla a Stoccolma. Una Svezia con le bandiere a mezz'asta si è raccolta nei giardini del comune e della sua capitale per ribadire il credo nella tolleranza ed esprimere solidarietà ai paesi d'origine delle quattro vittime. La Svezia, il Belgio e il Regno Unito sono uniti nel commemorare le perdite che hanno subito, ha detto il primo ministro svedese. I nostri tre paesi hanno certo subito terribili attacchi terroristici, allo stesso tempo hanno però dato prova di forza, di determinazione e della tenuta delle loro società democratiche. Non ci piegheremo mai al terrorismo, insieme verremo a capo di questa dura prova. Ancora più esplicito l'appello della sindaca di Stoccolma che nel suo intervento ha ribadito che non si cederà alla violenza e che la sua resterà una città tollerante. Il fatto che il presunto responsabile sia un immigrato usbeco in attesa d'espulsione ha indotto la destra nazionalista dei democratici svedesi a chiedere la detenzione provvisoria di tutti coloro a cui, come nel suo caso, venga negato l'asilo. Dell'uomo fermato sabato è stata chiesta la convalida dell'arresto. Le autorità gli imputano simpatie jihadiste, mentre alcuni media locali sostengono abbia rivendicato l'attacco e detto di aver ricevuto ordini direttamente dall'ISIL.